L'asma è una malattia infiammatoria che colpisce le vie aeree e quindi limita le capacità respiratorie dei soggetti. Il problema più rilevante da questo punto di vista è che colpisce anche giovani, pazienti, addirittura bimbi in età pediatrica e in particolare nell'adulto limitando la funzione respiratoria e quindi la capacità di aderire a una normale vita di relazione può anche limitare in maniera rilevante e significativa la capacità lavorativa, quindi una malattia che ha un impatto anche sociale rilevante. Pensate a respirare attraverso una cannuccia che si fa sempre più piccola, questo vuol dire avere l'asma bronchiale. In una regione circa di 5 milioni e mezzo di abitanti il 6-8% è affetto da asma e spesso e volentieri non lo sa. Diciamo che fortunatamente la maggioranza delle patologie di asma bronchiale possono essere curate in maniera soddisfacente con dei farmaci inalatori. Esistono dei farmaci inalatori di nuova generazione, comprendono innanzitutto i corticosteroidi inalatori, cioè il cortisone inalatorio, farmaco da non demonizzare per un semplice motivo. Quando inalato entra solo per meno del 5% nel torrente sanguigno, quindi stiano tranquille le teleascoltatrici che non è il solito cortisone che poi fa ingrassare, i cosiddetti broncodilatatori che hanno due classi fondamentali, si chiamano beta-2 agonisti ed anticolinergici e nei casi più gravi dove questi farmaci non funzionano, questa è la vera rivoluzione degli ultimi anni, si utilizzano i cosiddetti farmaci biologici, cioè sono farmaci che agiscono direttamente sul meccanismo dell'asma attraverso differenti sistemi.